Ciao, oggi sono andata a fare un giretto da Terra Nova per vedere cosa c'era con i saldi, anche se ormai sono iniziati da più di due settimane. Questa è una panoramica di quello che ho preso da provare nel camerino. Iniziamo con questi shorts rossi che sul manichino erano stupendi, ma su di me no, non mi piacciono per niente. Sarà perché io ho un po' la paranoia delle gambe, non mi piace che si vedano le cosce, quindi per me non vanno bene. Ho provato queste culotte nere che erano alla fine l'unica cosa che mi piaceva e che avrei potuto prendere. Nere semplicissime con il nastrino in vita e di un tessuto morbido tipo simil raso, molto molto carini. Questi pantaloni da tutta da casa, niente di che. Alla fine non li ho presi perché li volevo un po' più morbidi, invece la L non c'era di nessun colore, questa era una M. Li volevo un po' più larghi, un po' più morbidi e invece non c'erano quindi niente. Questo sulla carta mi piaceva tantissimo, mi piace lo scolo quadrato, mi piace molto, però forse una taglia in più, non lo so. Anche questo mi piaceva, la taglia era giusta ma non lo so, mi segnava comunque un pochino sulla pancia, molto meno dell'altro, quindi non mi convinceva. Mi piaceva lo spacco di fianco, questo in inverno con le calze sotto e anche le tennis lo vedo molto bene, in primavera senza calze e anche una scarpa diversa come vi pare. Questo mi piaceva molto, anche questo molto carino con la moda del momento, cioè la zip con l'anella attaccata, però alla fine non era niente di che, è un maglioncino grigio, ne ho già comprati tanti con i saldi di maglioncini semplici, leggeri. Quindi questo non l'ho preso e per finire una magliettina semplice semplici a righe bianche e nere, proprio nel mio genere e alla fine non ho preso nulla, quindi molto molto delusa direi. E questo è tutto, ciao alla prossima!